Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora oggi come al solito siamo con Folletti1 Che non è Dark ma è questa bellissima Dark è un tipo che è appena uscito dal cinema Infatti c'è ancora gli occhialini Hey misins che canale in descrizione ovviamente Bella raga Andiamo sempre a fare gli anger games Che sono survival games Sono dettagli Allora server9 Che è quello più vuoto Che cosa prendo? L'unico che puoi prendere è perché non scioppite Io sono dentro uno quindi non è molto bella come sensazione Però vabbè ci può stare Madonna Mi ha rubato la roba dall'inventario Mi ha detto Mi ha giocato Dennis Mi ha scattato Mi ha trovato un compasso Sì però L'ha ragione tipica Sì quindi magari scappa Vieni vieni Vai vai Sto seg individuo Dark Vai scappa Dark Scappa Non ce la faremo mai Ma perché Questa fa male Ma che cazzo No dai Noi siamo up Noi siamo up C'è una chest Ma c'è una chest Vuota Ok no Altra veziamo Veloce 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 Io sto server Capito perché non ci gioco Chi è che mi ha mirato Ah no Perché io laggo a bestia Raga ma dove siete finiti No noi siamo alla tua testa Ah ok Sì ma ho già perso Dei per farti capire Comunque Perché No perché io mi perdo Negli Hunger Games Comunque ne avete già uno dietro Ma siamo nel campo di grano Sì sì vi ho visto Vi ho visto Me l'ha detto Dark Che era fatta tipo Laggiù spersi nel mondo Comunque Oddio sto arrivando Sto arrivando con calma però Allora Io sto salito sopra Oh mio dio raga no Raga il pieno di gente qua Sono tipo in cinque Cos'è Ho paura Oh mio dio Io vi ho perso di cattiveria E la spada Le mazzo Eh io invece non ho nulla Madonna Dark Aspetta salgo qua sopra E spero di trovarvi Ho visto uno Ho visto uno Hai tranquillo rimani Uno Magari ne fosse soltanto uno eh Guarda Se avessi ciò che ho visto io Non so Ok magari però qua c'è qualcosa Ok sono scappato Perché non avevano armi GG No perché hanno paura di me È differente Ah ok Oddio la spada Ho trovato la spada Ragazzi È vinta È vinta C'è poco da fare Raga ma io non cazzo Ma è normale Si trovano le cose Però ammazziamo gli altri Ok no io questo qua Sono pieno di roba Se ci incontriamo Vi passo l'armatura Ma l'ha domandato Che sei Allora posso uccidere il mondo Allora Sono in una casa Metta Una montagna Più o meno Allora C'era la cascata Ah sì Si è salito sopra Eh sì Ok Vedete gli altri Che sono davanti a me Proprio Sì L'ho fatto scappare io Cioè andiamo a prenderli o no No Saliamo sopra Vediamo se Possiamo Aggrupparci Ok Dalle scale proprio Tanto non c'è salito Se vedo qualcosa da Givarmi Ah sì Venite qua Venite qua Allora c'ho questo Questo Non faccio complimenti Oh porca Passo un po' di roba così random Spazzatura insomma Tutto per me Ok Vabbè Sembra meglio di nulla Vabbè In effetti sì Tanto guardiamo sempre Tutte le cose Non mi muoio di fame No tieni Ce l'ho il cibo io Tieni Due panini Biscotti Dietro Biscotti sono miei Mmm biscotti Uometano viene qua che ammazziamo a questi due Veloce Aspetta Aspetta Io a mani vuoto lo uccido No 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 Non ci tentare nemmeno Che poi ci muori male Allora Dark corri Corri dietro di cattiveria Io vado dall'altro L'hai deciso Bella Vai GG Qua non c'è nulla Qua dentro Sta scappando di cattiveria Quello sta prendendo la ceste E la vado Oh c'è neanche un altro qua Forse sono in team Non ce l'avevo Sono in team questi qua No Dark ci mirano Dark dark box Sono in due questi qua Comunque ho un ferro Se avete un altro ferro Ci grattiamo No non c'avevo nulla Aspetta Misis che non stare così vicino Io ho un osso Io ho un osso Aspetta E l'hanno già prese quelle lì Comunque no Con l'arca hanno troppo vantaggio Qua Oh Ti stanno mirando Ti stanno mirando Allontanati Una canara peppa Non ci fai nulla Ulla è spawnata La cosa Metano Quartinaria Allora se io uso La canara peppa Ti posso Ti posso Spingere Metano Sì In teoria sì Aspetta qua c'è una chest Ok Eccomi veloce Spawnata la cassa speciale Dove? Eh ho capito Vediamo vediamo se funziona Sì vabbè funziona Però è culo Eh vabbè lontano Ci sarà sicuramente qualcun altro Però è che te nemmeno Le ammazziamo È dove eri tu prima All'inizio Dalla cascata Comunque se avete l'arco Io ho delle frecce Eh anch'io Ah bello Non è che ci serve l'arco Eh vabbè si trova Salite salite No cazzo mi sono inculato Dai ma aspetta Comunque stai molto attento Perché lì sicuramente C'è qualcuno Eh vabbè seguimi A parte che mi sembra Non sia ancora spawnata la cassa Cioè è proprio L'anno santa E è là sopra ancora Eh si ma hanno detto Che spawnava Ma non è ancora spawnata Mi sa lo dico Hai cibo per cazzo Lo dici? Io ho due di grave Eh c'è uno Due dentro Dark Dark l'ho visti Dark Cazzo è sto bordello Entrano da qua Dark Entrano Entrano Dark Sta laggando il server Non fare l'abilità Non fare l'abilità Dark sono tre qua Torna indietro Anzi no il cane Il cane scherzo No aspetta ti copro la porta Mi sto facendo in seguire vai Cazzo Apro la cesta Siete dentro la casa Fatemi capire E io sono fuori Spezza Mi serve il cibo Ok abbiamo ucciso il cane Abbiamo ucciso il cane Perfetto Buttami il cibo Aspetta cazzo 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 No mi hanno ucciso Madonna C'è uno fuori Mi staranno Ragazzi mi hanno ucciso Arato male Arato male Arato male Arato male Va beh È andata un po' male Abbastanza Un po' troppo Questa è persa Questa è persa No dai Raga Impegno È nuova mappa metano questa Sì non l'ho mai fatta Io non l'ho mai fatta nemmeno Quindi gg Ah no l'abbiamo fatta questa Oddio oddio Le spade Due spade La spada ho preso la spada Io due ne ho presi Anche una per il misis Forse Ok perfetto Andiamo Corriamo Dove siete voi Dove siete Io sono di te metano Ah ok E misis Dove è Sono da qualche parte Ok fa il giro Ok ho visto metano Ho visto metano Ok Madonna si stanno Ammazzando Ma perché qui si può killare subito Aspetta aspetta Uccido questo qua di cattiveria Perché ha tentato di ammazzarti Ti voglio vendicare La madonna Aspetta Se ci muori L'ho ucciso Guarda guarda quanto Quanto di roba aveva Ok aspetta Misis Al volo Tieni questa Dark Tu hai il kit Arco Prendi Prendi Mi serverebbe Eh ce l'ho ce l'ho Ce l'ho transollo Per questo infatti Eh visto ne valsa la pena Tieni Oh io posso fare una freccia Se vuoi Posso fare freccia No ce l'ho Ce l'ho anche io Le frecce Poi le danno Scappiamo Oh comunque i panini Se volete Eh sì Infatti il cibo ci manca Anzi sto a dire il vero morendo Però dettaglio Tieni tieni No aspetta con calmo Facciamo dopo Facciamo dopo Perché prima Ci si deve allontanare Di cattiveria Eh ma io ti faccio il regale E tu te lo mando Vabbè Allora Dark Però fermati ora Dark Aspetta qua c'è una cesta Ho ci sono le patate Eh la patate La carota madonna Dark fermati Sì Dark Che cerca di prendere la mela Quella là Allora Eh non lo so Penso fosse bella Allora due frecce Questo non mi serve Questo nemmeno Questo tiento Ti puoi fare le cose Tante belle cose Eh ok ho fatto tutto Che cazzo servono Il cibo Il cibo ci sono le carote Allora non le prendono E ve lo andiamo a prendere le carote Sono qua tanto Però i panini No Le hai lasciate Eh vabbè Allora Cibo gratis Non mangiate le patate crude Che vavvelenate Perché ma sono buone Davvero Sì sì Vavvelenano 16 carote Sono apposta per tutta la partita Parita Proprio stavo dicendo Parita La parita ragazzi Questo sta andando un po' meglio Io diciamo Sì non è male Intanto rubo le carote Dai 19 carote GG Allora Ne piglio altre Perché sono buone Cazzo Ok E non si slaccano queste Perfetto Allora E deve fare un po' Salve Continuando Sì Più o meno Più o meno E qua non ci ha preso tutto però Eh sì infatti Allontaniamoci Guarda che là Guarda che là Guarda che là Mi sisco Guarda che là Mi sisco ma te ci sei dietro Eh no Stava un pochino Ciao mi sisco Sto laggando Darki vieni da questa parte qui Dentro il murino Mi sa che sto laggando qua Perché No no Tranquillo Tranquillo Ok Vedo Dark Vedo Dark Tipo un dio sceso in terra Mi immagino Quale visione insomma Qua c'è una cesta Vediamo Come si entra qua Ah da qua Perfetto Già l'hanno lootate tutte Cavolo Qua invece no C'era anche un buon cibo Questo secondo me È abbastanza buono Aspetta Tipo ormai non ce ne fottono Cazzo proprio Esatto Ormai siamo ricchi Ma che cazzo Ultimo lezzino Ma dove sei Cosa fa Cosa fa Ho fatto un passaggio segreto Piggia un bottone Piggia il bottone Dentro E dove il bottone C'è Aspetta c'è una fessura Guarda qua Guarda Vedici una fessura Aspetta pigialo Si apre qualcosa No toglie la crafting Toglie la crafting Ah Vabbè Tieni Dark Darte Che ingegneria proprio Pensavo fosse qualcosa Oh c'è uno C'è uno raga raga Aiuto raga Aiutatemi Plox Ok perfetto Mamma mia Che team Cosa abbiamo fatto È bello che ci sono andato di mani Quando avevo lo sparo Dark scusa Ma tu mi avevi detto Che la spara faceva La spara d'oro No no Io ho detto di ferro Ah La doro ne fa 4 Quella di legno ne fa 4 Quindi Eh no Io pensavo che Cioè abbiamo capito Doro e ho la spara Invece di Troiaio Comunque Misis Aspetta Tieni What Mi sta tirando una laggata Ok davanti a noi E qua qua che culo Che culo Madonna ragazzi Veramente Ancora non è spavonata però Eh vabbè bisogna Assolutamente Infatti va tenuta la zona Dai Ragazzi siamo in te Formazione politica Io non lato Vai No controlliamo veramente I lati tutti a modo Sì sì Oh io ho la Optifine Quindi posso vedere Con GTRL Vabbè io senza Optifine Posso vederti il tristo Comunque Per dire Non lo faccio Perché lo rispetto Per gli altri Dai Con questo Quanto ci vuole Per farlo spawnare Cazzo è che la notte Pazza mirare What the fuck Non lo so In effetti ho visto Una sfidosa Oh meglio A me sta tirando Delle laggate Anche a me si frizza un pochino Oh arriva Sì sì l'ho visto L'ho visto L'ho visto Cazzo è messo anche bene Ma non so se c'è il coraggio Io gli faccio gli scattini In avanti Per spaventarlo Anzi Ah cazzo Regà mi sta attaccando Ma che cazzo è No misis Madonna ma io qui Ma che cazzo di hugger Madonna E hackerissimo E hackerissimo E hackerissimo Ma aveva ucciso Ma ci ha fatto la tripla E ma hackerissimo Oh questo provolava Regà ma l'avete visto Dava tre colpi di spada Con uno Ogni colpo che dava Ne dava tre Vabbè mettete delle meraviglie Oppure la cittara Non lo so No no Ma cittava Cittava un bel po' Quello lì Eh regà Ogni colpo di spada Dava il colpo per te Magico dai Ok ragazzi Allora Il video finisce qui Quindi Folletti 1 Misisk E Darket Ti salutano tutti Ti salutano tutti Ovviamente il canale In descrizione E spero che il video Vi sia saluto Quindi ciao a tutti Ciao Ciao raga Lasciate like Ciao a tutti Grazie a tutti.